Arresti per droga a Comiso ad opera dei carabinieri che hanno ammanettato una insospettabile coppia di rumeni, 25 anni lui, 36 lei, entrambi incensurati, sorpresi con tre panetti di hashish del peso complessivo di 300 grammi nascosti nel cuscino del letto matrimoniare. Dal quantitativo di droga si sarebbero potute ricavare centinaia di dosi per migliaia di euro di guadagni. È stato il fiuto delle unità cinofile a scovare la droga nel cuscino. I due non hanno saputo ovviamente fornire spiegazioni e pertanto sono stati entrambi ammanettati. L'uomo è stato rinchiuso in carcere a Ragusa, la donna è stata invece condotta nella sezione femminile della casa circondariare di Piazza Lanza a Catania. Ad Ispica, sempre i carabinieri, in un'altra distinta operazione, hanno arrestato un altro incensurato. Si tratta del 21enne Carmelo Spataro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell'abitazione del giovane i militari hanno rinvenuto cinque piante di cannabis indica, alte circa 15 centimetri, un involucro di cellofan contenente circa 240 grammi di foglie essiccate, sempre di cannabis indica, e diversi materiali per la pesatura della sostanza stupefacente. Il 21enne è dunque finito agli arresti domiciliari.